No! 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 Lo! Ehi! Lo! Me ha fatto il suo ma che male questo Non è più male Dice non è per cursi No! Non lo so, non lo so, non lo so! e' bric, incearca se dai un parto al lui lasa il paga in tren Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti